Ciao a tutti, amici voi sapete che se io non esprimo o non condivido qualcosa con voi non sto male e allora voglio dividere questo groove con il flam, particola cassa e rullante quindi andiamo a flammare, ci dice così in campagna, a flammare o a flantumare o a flambè come vi pare, basta che si flamma flammatura, trebbiatura, stiamo là in campagna questo, quindi flammare con cassa e rullante praticamente è solo un gioco, non lo fate quando andate a suonare perché si può fare solo in campagna questa cosa qua si può fare solo in campagna quindi prima della botta, di rullante, che la botta deriva dalle botti di rovere dove qui abbiamo il vino la botta si chiama così, non si chiama la pacca, come la chiamate voi, la botta, quindi viene dalle botti quindi prima della botta ci vuole il flammare la botta con cassa e rullante quindi l'esercizio è questo, lo facciamo e divertitevi perché quando c'è divertimento è tutto più bello quindi andiamo a fare qualche esempio di flammatura grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.